Oh, è aperto, ok, vi inizio, vai che la challenge non era male. Ah, ok, ciao. Capisco perché ti hanno messo, sai? Magari potevamo anche passare sopra. Però non so come è che all'ordine. No, no, ma cosa fai, Sonic? Quello un po' è rimasto, eh, dagli altri giorni. No, piegare quando non funziona. Ciao, adesso l'ignoro. Oh, cap. Sonic, questo misterio ball ha una forte forte magna. Quinti? Se attacchi il switch, il magneto va attivare. Ok, è che mi fa' per me? Ah, sì. Bene, per me è cosa... Sento sp... Ah, ecco perché. Tu dici? Però devo comunque ammazzare quell'idiota. Oh, cosa ho fatto? Ho solo rimbalzato? Questo, ho sentito parlare male anche di questo. Uff, cos'è sta sfera? Ahia. Ahia. Quelli che non sono rotti funzionano? Novo il concept, giusto che potrei ancora controllarla, non è più la telecamera di Sonic Heroes, vai! Ok. Sì, vedo già roba, infatti. Mi sa che ci faranno usare tutti e tre, penso che è finale per loro. Aia! Tu non hai, giusto? No, però puoi volare, quindi giustamente. Tu dici, non sono stati perdito il gioco. A parte in Cry 6, però... Ah, sì. A parte facciamo andare il framerate come Paxi. Ok, cosa fai? Oh, c'è una first person review. Non. Voilà. Dostrugge una cassa alla volta, Teos, mi raccomando. Ed ecco l'intruttore, che ha fatto pausa principalmente... Ah! Ah! Ahè, 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 calmino! Don Giovanni. Poi dove eravamo con la sfera? Non ci vedo Uff, con le sfere stanno facendo laggiare il gioco come matti Fatto E ora? Ah ok, ciao E che sezione con Tails Now what? Perché giro la telecamera così? Ehi Nooo Bene, percipendia non so neanche... Ok Qualcosa ho fatto E quest'area mi sembra nuova Quindi... Lo sapete cos'è successo? Ho premuto Y con l'intento di cambiare in Tails Come se fosse Sonic Heroes Ups Ok, stanno a mente responsabile Oh Ecco perché non aprivo la porta Cazzo faccio... Quello non era molto chiaro Ehm... Sì, ho visto i veneri Quindi, boh, immagino Vaffanculo intanto Ok, qua sarebbe comodissimo essere Tails Quattro Programma attraversi Ehm... il Implano attraversi Eh... Oh Che... Dai, zitta, Rexha! Ovviamente roba che non si one-shot, no? Come on! Oh! Sali sopra sta palla! Non ci vuole! Ok, posso una piccola linea. Ma che disastro ha fatto! Ha distrutto tutto in circolazione con quella mossa che ha fatto! O forse è stato attivare il magneto. Ups. O forse è stato attivato! O forse è stato attivato! Sono la metà di essi. Stupido! Ok. Oh! Buongiorno! 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 Bella distruzione! Bene! Bene! Guardate! Si apre? No! C'è qualcosa che ci manca! Oh! Buongiorno! 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 not Baron! Buongiorno! 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 Ups. Okay. Buongiorno! Peompare! Ups! Ops! Grazie! Uff, nel quale ti ammazzano. Oh, ciao fine. Nienta i speed stavolta. Benissimo. Tu quasi è in mani sottofondo, la musica è così rilassante. Ciao. ...na delle tre storie, diciamo. ...increasing engine output at maximum. Course plotted. Gate open. Lifting off. Ok, caricamento per una cutscene. Immagino ci sia un boss finale per ogni storia. Però non ho idea di cosa sia adesso qui. Ok, ancora non so. Nella precedente cazzo erano due minuti. Uff, Egon Hyper. Che cavolo? Come? Che? Non ho idea. Non ho memoria di questo boss. Scusate di giro a trackman. Mi ricorda tanto Vipara di Adventure 1. Oh no. Dimmi che non è così. Finora tutti i boss erano un... Aspetta che faccia qualcosa. E finora erano tutti meglio di Heroes, i boss. Quindi... Ok. Ho tirato da minare. Pensavo avrebbe solo fulpito, ma... Sì. Ok. Ho fatto l'allenare. Non so se potevo fare altro, sinceramente. Sonic, get away from the target. He's going to take out the entire foothold. Oh, vero? Non è il... Il via del target fa. Cosa vuol dire? Ok. Semplicemente restringe il campo. Sì. Sì. Ok. Poi sappiamo già cosa fare. Più o meno. Arrivi? Ok. Posso fare qualcosa quando sono qui? Non so se lo sto guidando io. Provavo a muovere lo stick, ma non so se l'ho guidato io, quindi. Immagino che a me era fase. Cali. Ok, grazie. Per ora questo si chiama solo ristringere un campo. Non è più. Cosa fai? Vecchierimente. Sì. Ok. Che mi vuol dire? Non ho avuto previsi per questo. Ok. Laser. Sembra la cosa più facile fino ad evitare. Sì. Mi dovrei prendere. Eh! What the fuck? As long as that cannon is protecting the cockpit, it'll be hard to attack Edna directly. Quindi? Cosa mi vuol dire? Sto mancando, ovviamente c'è qualcosa di nuovo che non capisco. Almeno in questo gioco ti dà due occasioni per fare qualcosa. Ok, il laser, via. Io sinceramente, più che andare a fare un main attack al momento giusto. Ok. E quindi avevo sbagliato semplicemente a fare un momento sbagliato? Ah no. Ok. The canopy? What's the matter? Ok, adesso cambierà fase. Immagino che adesso voglio dire che faccia più danno. Ok. Cosa distrugge esattamente? Un angolo? Va bene. Il campo non è tanto problematico comunque. Non vederti è problematico però. Vorrei laser. Oh, non lo so, ma devi dire te. Ok, è un... Ti seguo finché decidi di non farlo. Cioè? Ok. Ok. Questo mi sembra simile a qualcosa che ti devo dire, visto. Fall? Cos'era più? Ok. Campos che si ringio ancora? Bravo, hai fatto una T. Voglio non vederti. Dove cavolo sei? Danno questo. Dimmi a te. Ok. Non è mai che non è colpito. Non stavo facendo un'homiga tank. Ti stavo preoccupando. Ok. Campo sarà ancora più piccolo immagino. Mi farai stare su quelle due piattaforme, vero? Quale distruggi? Ok. Ok. Ciao, ciao piattaforme. Ma rimarranno due piattaforme così a caso? Ma... Almeno si è ordinato, ne? Sinceramente io non vedo quando li vedi fuori questi. Mi hai tolto gli anelli, vero? Mi hai tolto gli anelli, bastarlo. Ok, devo riuscire a evitare quell'attacco che mi fa di solito. Potrei aver fallito solamente perché non avevo anelli. Pezzo di nerd. Dove? Ok. Ok, questa è l'ultima piattaforma. Non lo vedo neanche. La camera non aiuta per niente. Perché ha fatto un homing attack? Sonic! Cretino! Ah, vabbè. Sinceramente, again, non è peggio di nessuno dei boss heroes. E neanche di Avengers, sinceramente di Avengers 1. Con la vippara rodiosa solamente dovuti cadere. Almeno qui il gioco è gentile nel non doverti far cadere. Ok? Incredibile quello. Ok, immagino abbia avuto culo finora. Fai due volte, vero? Hmm. As long as the canopy is protecting the cockpit, it'll be hard to attack Eggman directly. Ok. Eh, quindi sto facendo qualcosa io. Però mi fa rimanere quanto cavolo vuole qui. Sonic! Sonic! Get away from the target! He's going to take out the entire foothold! Mi piacerebbe capire come cazzo evito quell'attacco lì. Ficco il campo grande e posso anche andare a culo, però... Beh, non lo so che non lo stanno facendo. Sto facendo un attacco a culo. Dai! Ok. Ancora un colpo per togier è per coso. Perchare questo! Ehi, cosa c'è molo lì? A questo punto devo iniziare a prendere gli anelli. Eeeh ciovanello. Poi bastinchi attacco lo so che lo farà, ma come lo evito? Il Maggison Tamiga secondo lui doveva parte. Secondo lui doveva parte. Adesso non lo evitavo sicuro, però. Che angolo di merda è quello? Non lo fare più, per favore. Ma che cazzo di modo era di colpirmi quello con le ali? Per l'amor di tua madre. Magari più lo evito? No, è proprio dove mi ha preso. Però... Gli anelli sono pressoché tutti qui. Ma a me ne è quasi ammazzato con la telecamera. Non è un bene. Gli semi sono da parte del campo dove non c'è le piattaforme. Bastinchi. Allora, ma devo cavare con gli anelli che perdo. Sì. 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 Stavolviamo gli anelli, brutto stronzo. Eh Felli, ce l'avamo arrivati. Eh non abbiamo visto finalmente cosa vuole fare il Bastinchi. peggio di merda ok va bene è la prima fase va bene grazie che cazzo che cazzo di parte era quella xbox mi ha rovinato la sorpresa alla fine della storia di sonic oh well eh ne abbiamo altre due ma vediamo come va a finire comunque eh sì mi sa che la votazione fa schifo qui sono stato colpito tipo un massimo di tre volte no no whatever let's see what happen sì e coglie una medaglia d'oro la missione è alto completa la musica dell'episodio sonic ora risprime l'audio l'episodio sonic ora risprime la sala teatro Sì Sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti